Riflettiamo sul senso della nostra vita, profittiamo per riflettere sul senso della nostra vita e sul nostro destino per vivere meglio il tempo che ci viene dato, per non sprecarlo, per non sciuparlo, ma essere sempre più capaci di spenderlo nel servizio alla vita e nella difesa e nella promozione dei veri valori. E' questo, fratelli e sorelle, il dono della conversione, quello che dobbiamo chiedere al Signore dal profondo del cuore. Continuiamo a farlo in questi giorni, insieme alla necessità di aumentare la nostra fede. Abbiamo bisogno che il Signore ci dia questa grazia, questo dono, di aumentare la nostra fede, perché anche noi, come San Piero da Pietrelcina, che ha saputo conformarsi all'amore di Cristo, al punto da ricevere in dono i segni della passione, anche noi possiamo e riusciamo a compiere fino in fondo il nostro cammino di perfezione, il nostro percorso di santità e meritarci così quel premio che il Signore ci ha guadagnato con la sua passione, morte e resurrezione.